Siamo molto molto felici di ricordare questo anniversario perché il motoclub Pesaro Tonino Benelli ha un numero di affiliazione alla federazione motociclistica che è 00004. Siamo probabilmente il motoclub più vecchio d'Italia, lo dimostriamo anche, ma abbiamo una grande storia e la grande storia è data dal fatto che qui al motoclub Pesaro Tonino Benelli sono passati tantissimi campioni di motociclismo, da Tonino Benelli a Riccardo Brusi, Dorino Serafrini nel periodo anteguerra, ma nel dopoguerra Grassetti, Campanelli, Lazzarini, mi vengono a dire anche Paolo Baronciani, Cico Baronciani, Lusso Battisti, ma anche Graziano Rossi, ma anche Valentino Rossi perché Valentino Rossi è stato un sostro, penso che sarà anche il prossimo anno, sostro del motoclub Tonino Benelli assieme a Franco Morbidelli. Ma quest'anno abbiamo una soddisfazione in più perché al motoclub Benelli, grazie alla pista Junior Camp, che guarda caso è a Tavuglia, abbiamo tantissimi ragazzi iscritti, giovanissimi, direi anche bambini. Se prima eravamo preoccupati che vedevamo al motoclub solamente gente anziana di una certa età, oggi a questa rievocazione siamo felicissimi perché c'erano tantissimi bambini e possiamo guardare veramente al futuro con soddisfazione, con felicità perché sicuramente avremo forza giovane a raccontare la grande storia motociclistica di questa città.